Salve Youtubers! Prima di iniziarla vorrei chiedervi una cosa Crepate subito! Spero vogliatemi molti più atroci! E ho appena iniziato! Formiche aliene giganti, ghiotte di teste umane e legno Sceneggiatori drogati! No 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 no! Fermate la musica! Qua si va oltre la semplice droga! Scusami eh! Tu sai cos'è? Questa! Può fare esattamente quello che fai tu con il tuo potere Ma posso anche spaccartela sulla testa! Quindi è addirittura molto più utile di te! Stai attenta! Il capo della confraternita è immortale! Tutte le ragazze della confraternita sono dei vampiri! La professoressa della protagonista è una guardiana della luce! No! Io sono tuo padre! No! Io sono una marionetta! Io io io! Ciao! Io! Salve Che succede? No, nulla Sei solo morto Cosa? Già E come? Hai presente che tu dici sempre Mi verrà un infarto a guardare questo film? Eh, te è arrivato Hai visto la scena più trash mai fatta Ah sì? Ah sì? E adesso? E ora ti devo far tornare in vita perché non hai ancora finito 3 2 1 Sì Sono morto di nuovo, vero? Già Merda Tuff 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 E forse ho sbagliato reparto Cercavo frutta e verdura Se vuole glielo do io un cetriolo Ma che cazzo La merda assoluta Lo schifo più assoluto Tutto il dolore Lo schifo maledetto Macabrissimo Mi piace Ma ho un pruritto al cervello che non riesco a grattare Devo Devo scrivere questo film Ma non mi viene in mente niente Devo farmi aiutare Oh 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 Tu 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 Vieni un attimo Io? Sì sì tu senti Aiutami un attimo a scrivere la sceneggiatura di un film Ma io sono un microfonista Oh guarda Stai tranquillo che è semplicissimo Scegli pure Quello è un cappello pieno di foglietti di carta Ah ah Cos'hai trovato? Horror Perfetto Allora Ficchiamoci Zombie Vampiri Che vengono fuori Con della cocaina Ok La telecamera accesa Ci siamo Bene Ora fate quello che volete Per tre o quattro minuti Ma Prima non sarebbe meglio scrivere una trama decente Perché Tanto sto coso non lo guarderà nessuno Marmocchio Sì Sai disegnare un dinosauro? Sì Eccolo Ma quello non assomiglia a un dinosauro Oh Eccolo Ti va di lavorare per la Dingo Production? Allora, bambina Cosa ti piacerebbe vedere in un film di dinosauri? Voci buffe? Sì Disegni stupidissimi? Sì Cannibalismo? Cannibalismo Che impauriti dal possibile arrivo in casa di nuovi giochi Vieni via subito, ma subito proprio via Era una vita che non dicevo peni E l'ho detto due volte in una recensione di un film per bambini C'è qualcosa che non va nel mondo Mancano ancora pochi giorni Ma io già non... Oh sì È un film Un film Sei un grande, Babbo Natale Sei Un vecchio briacone bastardo Altro che Bravo Sarai contento, Babbo Natale Ma hai fatto incazzare un'altra volta Ma hai rovinato Il Natale mi hai rovinato Ma tanto ti trovo Se ti trovo E sai cosa faccio? Ti porto questa E te la faccio ingoiare Ma non... Ma addirittura E cercare giornaletti porno Immagini di peni 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 Cioè sono dei peni Disegnati in un foglio In un film per ragazzine Peni Potete scusarmi Epico Non c'è nulla da dire Epico Epico Oh no Bestiace 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 Per davvero Ti picchia Con la gamba Che ti ha strappato Fatal Quello è un Megazord Quello è un Megazord Non riesco A trattenere La figaggine Che ti fa Che ti fa Che ti fa Non ce la faccio Non ce la faccio Non ce la faccio Pronto? Non ce la faccio Oh no, stai recensendo troppo belli Non posso recensirlo, mi dispiace, non posso recensirlo Non so cosa dire, è talmente inutile che non so cosa dire Mi dispiace di utopi ma non posso aiutarti Eh no, no, no Devi farcela con le tue forze Ma me Mi dispiace Hai ragione, grazie Bastardo No, 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 quella scena no, ti prego, no No, 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 quella scena no, ti prego Ti do tutti i soldi che ti do la mia ragazza Ti do la mia casa, il mio cane Ti do tutto quello che vuoi, ma ti prego, quella scena No Voglio la mamma Vedete questo? Vedete questo? Questo è come sarebbe dovuto essere dragoma Che cos'era quella roba? Che cos'era quella roba? Che cos'era quella roba? In definitiva, un consiglio Invece di perdere tempo a guardare questo film Fate sesso con la vostra ragazza Esatto No Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima